Potrebbe riservare delle sorprese l'ultimo consiglio comunale dell'anno ad Arezzo. La riunione del parlamentino a Retino è in programma per giovedì 19 dicembre con all'ordine del giorno ben 16 atti di indirizzo e una proposta di delibera di iniziativa consigliare di Daniele Farsetti, Movimento 5 Stelle, che prevede l'abolizione del regolamento comunale che disciplina da destinazione di parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, tra gli altri, alla Chiesa Cattolica. Le pratiche iscritte sono soltanto urbanistiche e protagonista sarà il vice sindaco Stefano Gasperini, tra esse un piano di lottizzazione che insiste sull'area della ex Cadorna. Ma la sorpresa di cui si vocifera è la spaccatura tra le fila del centro-destra. Durante l'ultimo consiglio comunale il capogruppo del PDL Francesco Francini aveva dato rassicurazioni in merito alla compattezza dei consiglieri. Per il momento non ci sono movimenti ufficiali ma solo ufficiosi. La sensazione è che invece la spaccatura si avvicina e lo smembramento si è anche piuttosto consistente. Due consiglieri dovrebbero giurare fedeltà a Berlusconi, dunque con forza Italia, altri due ad Alfano, confluendo così nel nuovo centro-destra. Ma tutto dovrebbe partire dal nuovo gruppo che nascerà o dovrebbe nascere in consiglio comunale che si chiamerà Moderati per Arezzo, fondato dall'attuale capogruppo della Lega Nord Roberto Ruzzi. Nella parola Moderati si dovrebbero riconoscere in molti, non è escluso che ci sia anche qualche appartenente alle fila nemiche, ovvero centro-sinistra. Per adesso sono soltanto congetture ovviamente. Il prossimo consiglio comunale ci dirà se il centro-destra retino terminerà il 2013 così com'è o si darà invece nuovi propositi, pardon, nuove bandiere per il 2014.